Nel corso del colloquio ci siamo soffermati anche sul consistente contributo italiano che viene prestato alle Nazioni Unite. Ricordo che l'Italia è il settimo contributore ai bilanci delle Nazioni Unite, parlo sia del bilancio ordinario che di quello di Peacekeeping, è l'undicesimo contributore finanziario complessivo dell'intero sistema onusiano e invece abbiamo un primato, siamo il primo fornitore dei blue helmets, dei caschi blu dei paesi occidentali. Ospitiamo inoltre sul nostro territorio delle importanti agenzie ed entità del sistema delle Nazioni Unite. Ricordo il polo agroalimentare qui a Roma, ricordo il Global Service Center a Brindisi dove si recherà domani il segretario generale, ricordo anche lo Staff College, l'UNICRI a Torino, il polo di ricerca scientifica a Trieste, il centro di ricerca UNICEF, innocenti a Firenze. Sono in realtà ben presenti anche al segretario, tant'è che nel corso del colloquio le ha ricordate tutte una per una.